Ciao ragazze, come state? Spero bene. Nuovo video di Griccio, come state? Comunque questo video per parlare un po' con voi, ma soprattutto per parlarvi di tutti questi posti che ho fatto, ovvero ho acquistato uno, ne ho acquistato due di vaglioschiume, ma per farci vedere uno, ed è questo, questo qua, Davo, che mi piace tanto. Mi ricordo tanto quello di mia madre, che è questa qua lì, quando è piccola, e poi questo spazio che l'ho già usata, ma vabbè, qua sopra c'è la sua, è la Royal Beauty, vedete? Royal Beauty, non si vedrà mai però, lo faccio della stessa, questa è la sua etichetta Royal Beauty, cioè sia su TikTok, Instagram e Facebook, vedete? Già. E niente, pettina d'addio, fa un buon maluccio, ma se non pettina bene, che l'ho comprato a fare, e ha un'ottima impugnatura, quindi top per pettinare, per pettinare. Quindi non lo so ragazzi, a me mi piace, a me non si può dire, a me piace, e la sto utilizzando, addio, è fantastica, e piace davvero tanto. Niente ragazzi, era per dirvi che volevo parlare un po' con voi, del nulla, però almeno ce l'ho fatta a parlare, e racconterò tante belle cose, ovvero, sto continuando a fare tanti video shorts, perché gli shorts, visto che fanno molto, e vi aiuto, vi piacciono anche tanto quando soprattutto andate di fretta, quindi va bene così, già. Nulla, in questo istante sono vestita da casa, perché ho un freddo fotonico, quindi non so mai come vestirmi, quindi eccomi qua, ciao. E niente, io ho comprato anche altre cose per fare il trucco, ma va bene i dettagli, non è che l'ho comprato, e mi sono state regalate, quindi va bene. Niente. Ok ragazze, mi sono spostata perché ho fatto un cambio di inquadratura, perché tra l'altro è bello con la mia bella testiera del letto, che non si vedono più i miei, come si può dire i miei, ma veramente aiuto l'interruttore della luce, quindi, e vai, sono troppo contenta, però, adesso ci vuole il discorso, il discorso sarebbe a dire che sono contenta di se cominci a sbagliare, non ha senso questo video, non so perché sbaglio, vabbè, vabbè, comunque, sono contenta di aver fatto tutti questi acquisti, però non so mai, ogni volta, cosa cavolo devo fare, o questi acquisti, se truccarmi o meno, o vabbè, oramai sono truccata, si vede anche, che sono truccata, però, niente, non sono truccata del tutto, perché non c'ho l'ombretto e gli occhi, però il resto, quando sorrido, si vede che sono truccata, no? Oggi non sono riuscita a fare lente, perché faceva troppa, brutta giornata, e mia nonna invece, ha fatto altre cose, cioè, si è fatta le sante luci, però, ha letto un po' della sua sacra bibbia, perché lei, come ovviamente, le piace leggere la bibbia, ha letto un po' di bibbia, e mentre io invece, ho guardato i vostri video su YouTube, e anche un po' di televisione, ovviamente, già. E nulla, questo è quanto. Ok ragazze, non so, io vi saluto, e chiudo qua il video, perché non so quanto mi sono arrivata, ok, a 4 minuti, e ci vediamo, al prossimo video, ciao, like, commento, e attivate la campagna, se vi iscrivetevi, che è gratis, ciao.